Questo video lo dedico a chi parla senza una grande cognizione di causa e crede di giudicare senza sapere nulla e fa delle brutte figure. Si tratta di Andrea Dagos 80 che mi ha scritto ignorante che sei dietro al video, vuoi leggerti la Bibbia e ti leggi quella italiana? Ha ha furbacchione! Se proprio vuoi leggerti l'originale leggitela in ebraico, capra! Non sa il caro Andrea che gli studi che ho fatto io rispetto a quelli di Billino stanno come la luce del sole sta al più fitto delle tenebre. Billino ha preso la versione della Bibbia fatta dai masoreti i quali otto secoli dopo che la Bibbia era stata già chiusa introducono la vocalizzazione. Dunque tutto il suo giudizio è basato, notate sulla Bibbia, con riferimento a qualcosa che hanno fatto otto secoli dopo questi masoretti che hanno messo le vocali grazie alle quali poi non si capisce più niente e c'è un grande casino. Ebbene se uno vuole leggersi la Bibbia deve leggersi quella originale e non quella come fa Billino riferita a otto secoli dopo. Quindi il furbacchione in questo caso non sono io. Io ho preso il testo originario della Bibbia e guardate un po' che cosa segnala di importante il testo biblico. Di che cosa? nel libro 1, capitolo 1, versetto 1, si tratta di 28 lettere racchiuse in sette parole. Laddove c'è un creatore che crea in sette giorni. Qui c'è la creazione intera in sette parole e sono proprio quel sette per quattro dell'unità e trinità dello spazio-tempo. Ebbene la prima parola, brasit, che dando retta ai masoretti, la leggono bereshit, la prima parola, è composta di queste lettere che vedete. Il valore, come è dato dalla cabala ebraica, nella prima parola, brasit e non bereshit, perché la A, alef, è A e non è E. E lì c'è bra e non c'è bere. C'è la B, c'è la R e c'è la A. Si leggono bra e non bereshit. Se bereshit la leggono sette secoli dopo, sono delle capre. Bene, brasit nel suo valore numerico vale 913. E che cosa sono? Sono i 365 giorni di un anno terrestre che sono lanciati nel ciclo 10 in anni, il ciclo dell'unità, e poi sono considerati solo nella presenza un quarto, perché il ciclo 10 è spazio-tempo. Come spazio è tre dimensioni, come tempo è una dimensione, di conseguenza solo un quarto di quei dieci anni indica la presenza di tempo. Ecco dunque che i 365,25 giorni esatti della Terra per 2,5 anni risultano i 913 anni di Bibbia. Il valore che non è considerato in Bibbia riguarda solo il tempo decimale di un ottavo, perché un ottavo riferisce proprio il sistema complesso che nel volume 8 va da meno 1 fino a più 1 ed è lungo 2, questo 2 a cubo uguale 8 sono 8 cubi, ma ce n'è uno solo di lato più 1, più 1 e più 1, perché tutti gli altri non sono positivi in tutti e 3. Quindi l'unico che avanza in positivo sugli 8 indica il tempo 0,125 che sarebbe da aggiungere al 913. Ma questo ottavo la Bibbia lo aggiunge dopo, esattamente lo aggiunge con la quinta parola che vale 955 e ci aggiunge il moto di un ottavo, di 360 gradi per come è presente in 10 al cubo. La seconda parola precisa con il suo valore di 203 di essere il flusso dello spazio a dimensione 3 come quello di un'area che è nelle dimensioni piene e assolute 100 in un lato e 100 nell'altro che sono proprio alla base della nostra realtà, la quale quando moltiplica 100% e ottiene 10.000 ottiene la dimensione 10 elevato a 4 che legge lo spazio-tempo a dimensione 4 sulla base di 10. Quindi mentre in principio c'è il movimento di un anno in giorni terrestri estesi per due anni, virgola 5, dopo c'è il calcolo aggiunto di tutto il flusso 3 del piano allati 100 e 100. La somma di 913 e 203 porta infatti in modo esatto a 1116 che rivela proprio tutto l'avanzamento nei sei versi del ciclo 10 per 111. Quindi la Bibbia sta dando le indicazioni di come è fatta la terra e di come si costruisce il ciclo in anni della terra. Quando arriva la terza parola che secondo Biglino è Elohim, plurale e anche qui Elohim. Comincia per Aleph che è la A, per quale motivo la leggono E? E perché secondo i Masoretti anche Aleph deve essere letta E, Elohim. E invece Al, come Allah. Al, Dio, Allah, in Allah. Dopo Al c'è la fase uguale e contraria del La. Infine c'è la H. Il termine ebraico di Allah è perfetto e indica la terza parola che sta qui. Indica in una maniera evidentissima, proprio attraverso il valore di 646, quello che è il Dio del nostro sistema, perché il Dio, ossia l'energia in potenza è in tutto 666, ma l'energia non si muove. Quando si riferisce a un piano di lati 10 e 10 lungo 20, compreso nel 666, allora sì il piano si muove e si muove come 666 meno 20, come 646, come Alim invece di Elohim. Poi arriva il 401 che è il tempo 1 di presenza dello spazio-tempo, 100 più 30. Poi c'è il 955 che è il moto che era stato trascurato prima di un ottavo in 360 gradi per come è presente in 10 al cubo. Un ottavo di 360 gradi sono 45 gradi, 45 gradi presenti in 1000 sono 955 gradi e gradi come anni. Poi c'è tutta la dinamica 7 della realtà 100 più 300 nella sesta parola. E infine nella settima c'è quello che è già il totale tra la prima e la seconda, la prima parola più la seconda parola sono 1116. Qui rispetto a 1116 c'è il 10 che si muove di 1106 perché è compreso nel 1116 e essendo già messo in principio il suo movimento è solo il 1106. Il totale 4631 sono tutti gli anni della dinamica unitaria terrestre. Gli anni che cominciando dall'anno in cui è nato Gesù Cristo porteranno a giorno della fine del mondo. Come ci si arriva? Ci si arriva proprio prendendo il valore totale 4631 lo si divide per le 28 lettere e ognuna lettera ha un valore medio di 165,3928. Quando arriviamo secondo i calcoli fatti da chi capra non è, ma certamente io non sarò capito da chi invece capra è, e ho aggiunto proprio il dato precisato in Bibbia del 17 febbraio, ecco che 4631,0217, ossia incrementato del 17 febbraio, e diviso per 28 lettere, porta proprio al 165,3936 e tiene presente anche il dettaglio del mese 2 di febbraio e del giorno 17 descritto in Bibbia, superando esattamente di 100 quel 65,3937 da me calcolato come il piano dell'energia il quale più 4565,665 che è la somma dei cinque lati del decagono per portare da un punto all'altro quello diametralmente opposto secondo una rotazione di 180 gradi e arrivare esattamente all'anno 4631,0217 della Bibbia. Ora io questo l'ho già fatto oggetto di un video che ho fatto ieri, per cui adesso mi limito, tanto se questo Andrea Dagos vuole proprio leggere l'originale, anziché sputare sentenze in modo gratuito, se le legge, perché c'è uno studio preciso che porta al ciclo della terra che poi è quello esattamente verificato in Bibbia. Cavoli, la Bibbia ci dice, ci comunica il giorno in cui la terra si ribatterà e c'è un soggetto come Mauro Biglino che dice che la Bibbia non dice niente, non rivela nulla, è simile a Pinocchio. Insomma bisogna proprio sfatare le sciocchezze dette da qualcuno che scrive libri e va in giro a dire fandonie, limitando la sua totale introspezione a ciò che hanno fatto i masoreti 800 anni dopo che la Bibbia è stata definita. Chi vuole studiarsi la Bibbia e non vuole essere una capra, si vada a studiare i testi originali e non quelli manomessi dai masoreti, perché se fonda il suo giudizio su ciò che è stato manomesso dai masoreti, come minimo non sta osservando il testo originale. E se su questa base si permette di dire che la Bibbia non rivela nulla, allora vanifica tutto quello che il Signore ha voluto farci conoscere attraverso questo testo sacro. Grazie. Grazie.